Ben trovati a Sport News, gradito riconoscimento per Beppe Cormio, DG della Cucine Lube Civitanova Campione d'Italia, che all'Editorium San Francesco di Morrovalle ha ricevuto il premio Cesarini 2022, giunto alla settima edizione. Il Cesarini è stato attribuito anche al centrale dei cucinieri Robert Lendi Simon. Riapre la piscina a Pieve Torina, una vera e propria oasi di benessere inserita in uno straordinario contesto naturale con vari sistemi di idromassaggio. Si tratta di un impianto innovativo che coniuga divertimento e socialità con l'obiettivo di soddisfare i concittadini, ma anche di attrarre turisti nei nostri borghi, ha spiegato il sindaco Alessandro Gentilucci. Tutti in Campo ha invece il nuovo progetto del CUS Camerino. Negli impianti dell'Ateneo Camerte si sono svolte le gare rivolte ai ragazzi delle scuole. Scopriamo di più nel servizio. Si tratta di una manifestazione fatta per rappresentative di classe, anziché per rappresentative d'istituto. Questo progetto si chiama Tutti in Campo e ha l'obiettivo di far vivere a più ragazzi possibili delle scuole, non solo a quelli già sportivi, l'esperienza dello sport. Questa fase provinciale di Macerata è stata preceduta da delle fasi d'istituto, nelle quali sono scesi in campo tutti i ragazzi delle classi che hanno aderito e poi una rappresentativa delle classi vincitrici è venuta qui a fare la finale provinciale. L'attività praticamente l'abbiamo chiamata salta, corri e lancia ogni risultato conta perché i ragazzi si cimentano in una serie di prove sulle abilità motorie di base. È un segno di ripartenza, debbo sicuramente, debbo, dobbiamo noi come cittadini e come scuola ringraziare la parte interna della nostra organizzazione che si è dedicata a far sì che si potessero realizzare queste giornate di sport con i ragazzi, ragazzi che debbono riconquistarsi degli spazi di incontro e di scambio, quindi benvenga tutto ciò che spingerà i ragazzi a riconfrontarsi con i propri coetanei, con i docenti e col mondo che li circonda. Quindi benvenga lo sport sempre, assolutamente. Oggi è una giornata splendida con tutti questi ragazzi provenienti da tante scuole, colori bellissimi, con questa erba verde, cielo azzurro, venticello e parlavamo proprio di questa collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, con i responsabili, facevamo vedere i nostri impianti che non sono solo lo stadio con il campo di atletica, il campo di calcio, ma qui c'è l'arrampicata sportiva, c'è padel, tennis, tennis al coperto, palla a volo, palla a canestro, attrezzi per il fitness all'esterno, un bel lungo fiume, piste di country cross, ciclabili asfaltate. Sono un parco di 15-16 ettari veramente meraviglioso, dedicato proprio ai giovani, alla loro educazione, alla loro formazione, alla loro crescita, al benessere fisico, nell'ambito di progetti che l'Università di Camerino dedica proprio a questa formazione accompagnata dallo sport, come la dual career, studenti che sono di un certo livello e continuano a fare sport, borse di studio per le attività sportive, diciamo questo binomio scuola, sport, educazione, divertimento e ora anche aggregazione giovanile e il Covid ci ha insegnato quanto è importante l'aggregazione giovanile. Un progetto molto bello, assolutamente da riprendere, comunque da portare avanti, ne parlavo adesso appunto con i responsabili dell'istituto scolastico ed è bello perché comunque i giovani possono mettersi in gioco non facendo le solite specialità, quelle a cui siamo abituati, quindi tutti possono partecipare, tra virgolette, anche chi è meno abile, è assolutamente un progetto da portare avanti, è bello vedere tutti questi ragazzi, questi colori, la cornice in questo momento è favolosa, quindi assolutamente un'iniziativa da portare avanti anche nei prossimi anni. Gran finale ai campionati nazionali universitari di Cassino per il Cus Camerino che ha chiuso con tre ori nell'atletica, due firmati da Ahmed Adelwed, uno da Michele Antonelli con tre argenti nel judo ed un bronzo nel tennis. Adwerguad e Antonelli sigillano nel migliore dei modi una stagione da ricordare per l'atletica a Camerte, il primo sbaraiando la concorrenza nei 1500 e nei 5000, il secondo laureandosi campione italiano universitario di marcia. Judo che dal canto suo si conferma come sport di eccellenza nella tradizione del Cus con un settimo posto complessivo tra tutti i Cus partecipanti, frutto di tre medaglie d'argento, Nicola Becchetti nella categoria più 100 kg maschile, Kevin Perna nella categoria 100 kg maschile e Raffaella Ciano nella categoria 70 kg femminile, bronzo nel tennis con il terzo posto nel singolare femminile di Elena Pavolucci. Si chiude così l'edizione 2022 con la delegazione Camerte presente a ricevere la bandiera dei CNU per la preparazione ad un'edizione 2023 tutta da vivere. E con quest'ultima notizia sportiva è tutto per questa edizione odierna, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.